Lorenzo Libutti, all'inizio della stagione hai fatto tante partite dove sei partito dalla panchina e poi adesso invece hai giocato molto di più. Ti aspetti nei play-off di giocare con la carica delle ultime partite, hai fatto delle prestazioni importanti, ti aspetti dei play-off come quelli di due anni fa oppure diversi? Diciamo che partire dalla panchina non è stato mai un problema, anzi sono stato sempre comunque abbastanza contento e soddisfatto soprattutto di far parte a prescindere di questo gruppo e poi i ragazzi sono davvero bravi, il livello era talmente alto che ci sta assolutamente quindi per paradosso quest'anno che ho giocato un pochino di meno è stato l'anno in cui sono migliorato e ho potuto lavorare un pochino più su me stesso. Devo ringraziare anche il gruppo e i ragazzi che durante il percorso mi sono stati sempre vicino dandomi tanti consigli e quindi anche di merito loro che mi sono fatto trovare pronto. Questo era sempre stato il mio obiettivo, farmi trovare pronto nel momento in cui ci fosse bisogno di me. Quindi spero di migliorare sempre di più, di lavorare e di poter imparare sempre di più da questi ragazzi.